Siamo arrivati Scambiamo con una maschera antica Contratto riuscito, cassa di scorte recuperate Restate in 25, in bocca al lupo Occhie aperte Saldi attivi, i prezzi delle stazioni di acquisto sono ridotti Restate in 25, in bocca al lupo Mi sparano Tiro la termite Restate in 25, in bocca al lupo Restate in 25, in bocca al lupo Salzi conclusi, prezzi in aggiornamento Restate in amico Saldi conclusi, prezzi di aggiornamento Saldi conclusi, prezzi in aggiornamento soldato nemico in arrivo non è sopra non c'è nessuno passato davanti verso il carello si ho tirato traccato a terra sopra due a terra sopra due a terra sopra uno mi ha confetto uno fatto asci da sto sculato del merda ne vado a pia subito ma tu ce l'hai l'armi dove stanno ma questo è morto un compagno è tornato in squadra craccato dentro la barca c'è uno qua da me sopra non c'ho piastro non c'ho un cazzo c'è uno sopra rompetevi il cazzo che sargo a terra a terra fatto non ho ancora fini ritorno disattivato adesso non si scherza più ma io questa sta per terra ma questo c'è una monnezza non c'è una monnezza mi avete copriti io ci vado ma mi avete copriti però un te 12, un te andiamo via andiamo via andiamo via lo tiro qua subito eh c'è stato un cecchino davanti a noi craccato quasi one shot però c'è gente dietro c'è questo stronghold eh ma ecco ma cecchino davanti a te pareo coglione la zona sicura è piuttosto lontana datemi una mossa è piuttosto lontana facciamo gente dietro pure a stronghold sono fatto però adesso in shannon cazzo non c'è una fama qui stiamo in superiorità stiamo dietro non c'è nessuno noi push push ci ha detto bene ci ha detto ma se io dico push copritemi scendo sto solo sono due io vado un parun per cazzo così gli faccio uscire non Oh no A presto! I rinforzi sono in arrivo Saldi attivi! I prezzi delle stazioni di acquisto sono ridotti! Tiro una granata fumogena! Saldi attivi delle stazioni di acquisto sono ridotti! 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 L'immigro che è perso di vista ottimo lavoro! Edificendo… D in uscita dall'area operativa. 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 D in uscita. 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 D in uscita.